Un cordiale saluto amici di WeSport, bentrovati al Campobello di Mazzara per la diciassettesima giornata del campionato Under 15 regionale. Ci spostiamo nel gruppo A dove il Castelvedrano Selinunte affronta la Primavera Marsala, padroni di casa, reduci dalla vittoria per 1-4 sull'Aurora Mazzara. Primavera Marsala che nell'ultimo turno ha superato 2-0 il Ciaculli, vediamo la formazione padroni di casa, primi 11 con Cenedese, Fratello, Settangelo, Nastasi e Cognata, Norrito, Marco Pizzitola, Tilotta, Lipetri, Foscari, Filippo Pizzitola. Rispondono gli avversari con Groppo, Tobia, Panfilio, Scopelliti, Greco, Angileri, Luminario, Manzo, Amato, Marino e Secum. Si parte col film del primo tempo dopo un minuto di partita, tiro dalla distanza di Cognata, non trattenuto da Groppo, arriva Norrito che ringrazia per il regalo e fa 1-0. Avanti il Castelvedrano Selinunte c'è però un cambio, entra Catania, esce Fratello quando sono tre i giri di lancette. Al diciannovesimo azione personale di Filippo Pizzitola che brucia tutti a sinistra, va alla conclusione, si spegne di un niente al lato. Al venticinquesimo calcio di punizione, Filippo Pizzitola con la deviazione della barriera, arriva sui piedi di Lipetri che deve soltanto spingerla in porta. 2-0 Castelvedrano Selinunte, dopo due minuti di gioco la punizione lunga dalla distanza di Panfilio viene bloccata. In due tempi da Cenedese al ventottesimo la sventagliata di Tilotta, cercare a sinistra Filippo Pizzitola la mette giù in maniera meravigliosa, colpisce il palo, il pallone torna in campo. Ancora il numero 9 dei padroni di casa che stavolta trova il gol personale, rivediamo qui sfortunato nel colpire il legno. Bravo però a crederci per fare il tris dei suoi ed è così che si conclude il primo tempo al campo bello di Mazzara. Risultato rotondo del Castelvedrano Selinunte che fin qui supera 3-0 gli avversari della primavera Marsala. Partiamo con la ripresa al minuto 41, calcio d'angolo per gli ospiti. Dalla destra arriva Marino che calcia trovando però il compagno a dirgli di no, 42esimo Tobia per Amado. Salta un avversario in area di rigore, viene chiuso da Anastasi e poi dall'estremo difensore cenedese anche la fase difensiva del Castelvedrano Selinunte brilla. Sostituzioni, entrano Quince e Interisano per Li Petri e Foscari. Al 45esimo Marco Pizzitola appoggia per Interisano che però la spara alle stelle. 48esimo dalla sinistra il cross di Filippo Pizzitola per il compagno sul secondo palo che stoppa la metta all'indietro. C'è la conclusione di Marco Pizzitola che trova il gol su assist di Quinci. 4-0 tondo tondo, entra sedita per Cenedese, poco dopo anche Maniscalco per Norrito. Al minuto 52 proprio Maniscalco trova per B centrali Marco Pizzitola, sinistro che viene alzato in calcio d'angolo da groppo. Minuto 55 riesce Marino a trovare lo spazio giusto per girarsi e concludere, ma sedita e protagonista di un intervento incredibile riesce a toccarla, a sfiorarla quanto basta per trovare la deviazione del palo. Sgasata però di Filippo Pizzitola al 61, non lo tiene nessuno. Il pallone in mezzo dove arriva ancora una volta facile l'appoggio di Quinci che vale il 5-0. Sostituzioni, entrano Greco e Luca per Anastasi e Filippo Pizzitola al minuto 64. Interisano verticalizza in aria su Maniscalco, cerca la conclusione Mancina, deviazione in corner da parte di Tumbarello, chiude in avanti. Il Castelvedrano se li inunte, 65esimo, cross dalla destra, batti e ribatti. Arriva Interisano che può cercare la conclusione con il destro, viene parata dalla portiera che riesce a toccarla in calcio d'angolo. E' così che invece termina il match a Campobello di Mazzara, vittoria netta e tonda per 5-0. Dele Castelvedrano se li inunte sulla primavera marsala. Un cordiale saluto amici di Wii Sport e come sempre alla prossima.